0801 2019 cosa bisogna fare per farlo youtube fa un gran freddo proviamo pure ad andare a pescare anche oggi già ragazzi andiamo a sbacchettare ghiaccio premettendo l'attrezzatura inseriamo la mia polaroid super incazzatesso la mia polaroid super incazzatesso facciamo questo trucchetto mettiamo in corrente così non abbia neanche lo sbattimento di di lanciare prendevo bene e ci siamo ragazzi che ho preso mi sa davvero pesa dal di fuori eh si stavo dando a luci e si è agganciata questa trottella eh si bella vedete che ci ha sbattuto contro infatti guarda non la tocchiamo nè guarda che colore bellissima un po' maccata dai vai aiii